Roberto Francavilla, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Livio, buongiorno a tutti e a tutte. E benvenuto, anzi bentornato qui nel posto delle parole. Noi ce l'avamo trovati qui in occasione dell'uscita del libro pubblicato da Adelphi, il libro di Clarice Lispector, La città assediata, che Roberto Francavilla ha tradotto insieme con Elena Manzato. E adesso, insieme con Roberto Francavilla, ripercorriamo la parola traduzione. Poi oggi, 30 di settembre, è la giornata, se non sbaglio, mondiale della traduzione. È vero, Francavilla? Sì, io mi trovo infatti all'Università di Parma per un convegno dedicato proprio alle traduzioni e alle ritraduzioni. Questo sta a significare che è un compito che non finisce mai e fortunatamente non finisce mai. Non esistono versioni definitive di un libro. I libri, i romanzi, la poesia hanno una vita veramente inesauribile a cui contribuiamo anche noi con il nostro modesto contributo traducendoli, facendoli vivere nelle altre lingue. Visto che ha parlato di questi incontri a cui lei ha partecipato questa mattina in occasione della giornata mondiale della traduzione, che cosa ci può dire come riassunto di quello che è apparso come nuovo nel corso di questo incontro rispetto alla parola traduzione? Beh, intanto c'è un atteggiamento, secondo me, migliorato nei confronti del testo, prima di tutto. Il testo è come un passaggio di emozioni in cui la traduzione deve essere cosciente che l'unica comunicazione possibile è proprio questa, cioè recuperare l'emozione e donarla, replicarla in qualche modo in un'altra lingua. Un'altra cosa fondamentale di cui si parla sempre di più e questo è un punto che mi preme moltissimo, non è una forma di militanza o forse sì, l'invisibilità presunta del traduttore vive fino a un certo punto. Il traduttore esiste, deve essere riconosciuto. In Italia, purtroppo, lo sappiamo bene, siamo indietro, lo statuto a livello veramente di diritti, perché il traduttore ha tanti obblighi nei confronti di un testo fonte, ma ha dei diritti e questa è una cosa di cui si parla sempre di più, fortunatamente. Il traduttore deve essere visibile, io prezzo molto, per esempio, gli editori che mettono, naturalmente in un corpo minore, il nome del traduttore in copertina. Senza il traduttore, ricordiamocelo, il testo, il testo letterario, qualsiasi cosa sia, rimane ingabbiato nella propria lingua e la lingua quando non si apre, non si apre come si aprono le persone che viaggiano, che attraversano le frontiere, può essere anche una gabbia. In questo caso non lo è quando i traduttori lavorano bene e fanno percorrere ai testi dei viaggi incredibili nel mondo. E poi quando i traduttori lavorano bene arrivano ad avere anche dei riconoscimenti, come è giusto che sia. Per esempio, Roberto Francavilla riceverà, nel corso del Pisa Book Festival, il premio alla carriera per la traduzione. Ora, i premi alla carriera sono molto importanti, perché poi sottolineano un lavoro fatto nel corso del tempo, ma sottolineano anche un lavoro molto lungo. Quante sono le traduzioni realizzate da Roberto Francavilla se si arriva a un numero più o meno certo? Dunque, intanto mi lasci dire, Livio, che quando si prende un premio alla carriera bisogna sempre preoccuparsi, perché vuol dire che è proprio un segno che il tempo è passato in maniera inesorabile. Volevo toccare quel tema, ma mi sembrava poco gentile, Roberto Francavilla. No, no, invece è giusto farlo, perché uno deve preoccuparsi. Però, detto questo, io ne sono molto felice. Non ho fatto un calcolo numerico delle mie traduzioni, che cominciano a essere tante, anche se devo dire che il traduttore è un mestiere che io faccio insieme al professore di letteratura all'università. Io insegno letteratura portoghese e brasiliana, quindi sono due percorsi che naturalmente sono in stretto contatto l'uno con l'altro, due binari paralleli, veramente. Però sono due mestieri. Detto questo, oggi ripercorrevo nella mia testa i miei esordi e sono molto felice di poter dire che ho attraversato i tre contesti linguistici in cui si sviluppano le letterature di lingua portoghese, quelle del Portogallo, quelle del Brasile e quelle dell'Africa di lingua portoghese. Io ho tradotto il teatro portoghese del Cinquecento e ho tradotto gli scrittori delle favelas di Rigno assolutamente dell'ipercontemporaneità. Questo è un arco che comprende molto dal punto di vista cronologico, ma anche dal punto di vista spaziale, culturale e letterario. Poi naturalmente ci sono gli autori e le autrici feticcio. Uno può essere Fernando Pessoa, un altro può essere Chico Buarque, ma naturalmente il feticcio supremo, se così si può definire, è Clarisse Lispector, di cui abbiamo parlato all'inizio, quando abbiamo citato l'ultimo romanzo da me tradotto con Elena Manzato. E veniamo proprio a Clarisse Lispector, a proposito, lei diceva poco fa, di letteratura che ha attraversato i tre contesti delle letterature Portogallo, Africa e Brasile e proprio in Brasile è morta nel 1977, se non ricordo male, a Rio de Janeiro, Clarisse Lispector che era nata in Ucraina. Ora veniamo proprio alla sua figura, perché Roberto Francavilla, oltre che essere traduttore, professore di letteratura portoghese e brasiliana, critico letterario, è anche scrittore in particolar modo di questo nuovo libro pubblicato da Feltrinelli, Città senza demoni. E qui andiamo subito a scoprire l'aria che si respira, partendo proprio, non possiamo non partire, dall'immagine di copertina. Che cosa ci racconta queste immagini? È un'immagine bellissima, una fotografia di Clarisse Lispector. Se ne trovano molte in rete, sono quasi tutte immagini di una donna naturalmente estremamente bella, affascinante, con queste sopracciglia arcuate che sembrano veramente quasi feline, col suo fascino glamour, perché è un culto estetico molto forte, Clarisse Lispector non va dimenticato. Invece in questa copertina che Feltrinelli ha scelto, c'è una Clarisse quasi dimessa di profilo, ha la sua macchina da scrivere, è giovane, sta scrivendo, ci sono dietro delle tende che lasciano intendere che ci sia una finestra facciata chissà dove e lei è concentrata, assorta e secondo me anche nostalgica, sta guardando il suo foglio, le sue parole, con una certa forma di struggimento che è quello che io immagino nel mio romanzo. La mia non è una biografia romanzata, è un romanzo di finzione in cui io riscrivo, reinvento completamente i due anni che Clarisse ha trascorso a Berna dal 46 al 48 dopo la seconda guerra mondiale dove segue il marito diplomatico, un diplomatico brasiliano che si trova in Svizzera per lavoro. Sono due anni estremamente difficili, vissuti con una crisi che espocia in una visaglia di depressione, Clarisse scrive ma non è soddisfatta di quello che sta scrivendo, ha già scritto il suo secondo romanzo pubblicato in Brasile ma le recensioni non sono così felici come quelle relative al suo esordio che si intitolava Vicino al cuore selvaggio. Io racconto questi due anni facendo una capriola assolutamente o forse un salto mortale che un traduttore forse non dovrebbe fare. Io lo faccio con una certa dose di impudenza e di coraggio e cerco di mettermi nei suoi panni. Forse a furia di tradurla l'ho amata così tanto da trasformarla in una specie di ossessione. L'ossessione però ha dato un buon frutto, perlomeno un frutto creativo che è questo mio romanzo. A proposito di ossessione tornando a Berna è certo che per Clarice Louis Spector mi sembra che questa città questo ambiente forse stava troppo stretto e questo quasi le procurava delle ossessioni una sorta di depressione lei che era una donna del tutto indomabile quindi si sentiva un po' ingabbiata in quella città e non solo in quell'ambiente. Sì, una delle mie linee narrative si riferisce molto al paesaggio al paesaggio pittorico Berna è una città chiusa fra le Alpi il paesaggio alpino è naturalmente di oggettiva bellezza e lei però non riesce a recepire la bellezza di quel paesaggio lo vive invece come una sorta di gabbia si sente chiusa in questo fondo valle non riesce a godere di quella bellezza come fanno il marito e i suoi amici i suoi sodali in queste esternanti passeggiate anela il ritorno in Brasile anela la sua a Rio de Janeiro che poi diventerà comunque il suo onfalos il punto dove ritornare e dove poi costruire una vita dopo l'esperienza a seguito del marito diplomatico e poi c'è l'acqua c'è l'acqua che la vuole invadere in tutti i modi che appunto sono le sue ossessioni come lei giustamente ha detto sono i suoi demoni e lei costruisce delle ostruzioni costruisce delle dighe perché si illude di non crollare di non di non seguire il suo istinto prima o poi comunque nella vita lo farà ora non voglio anticipare molto ma la sua biografia è chiara ci sarà poi un divorzio ci sarà una vita solitaria piena di successo dal punto di vista letterario e intellettuale ma sempre venata da una sottile nostalgia da un sottile rimpianto una donna straordinaria una donna straordinaria che però dimostra la sua fragilità non solo in questo in questo romanzo ma anche nella vita vissuta è una donna che in ogni modo con le sue paure come abbiamo tutti e forse è la paura maggiore Roberto Francavilla è la paura del vuoto sì la paura del vuoto per chi scrive è anche la paura della parola non compresa e questa è una delle sue bellezze il suo rapporto con la lingua lei dice lei appunto ha questa origine lontana lei proviene da una famiglia di ebrei ucraini e ha questa esperienza terribile del pogrom che la segna con la violenza con la fuga è ancora in fasce quando con la madre il padre e le due sorelle arriva in Brasile e a un certo punto decide che la sua lingua è il brasiliano e chiede addirittura al dittatore Giotulio Vargas in una serie di lettere bellissime dice io sono una russa che non parla russo sono brasiliana e voglio la cittadinanza quindi questo vuoto questa ossessione a sua volta e questo pericolo terribile viene proprio dall'incomprensione quando lei scrive dice io voglio essere capita io scrivo per una setta di iniziati se non siete iniziati alla mia scrittura alla mia voce a quello che io scrivo e a come lo scrivo non mi potrete capire immagini che tortura per chi la deve tradurre è una tortura è una sfida ma è un'avventura meravigliosa è un'avventura meravigliosa per restituire quello che ci diceva poco fa in apertura di conversazione Roberto Francavilla recuperare l'emozione e replicarla in un'altra lingua seppure a volte con il lavorio su una parola anche sola Clarice Lispector è forse una delle poche scrittrici che hanno veramente imposto a noi lettori una voce una voce diversa una voce profondamente audace ma non audace nel senso di creare stupore per stupire pure patele bourgeois come dicevano i francesi ma qui lo stupore e l'audacia sono innervate proprio nel senso della scrittura ed è forse questo che crea tanta passione per i libri di Lispector sì questo sicuramente è uno degli indizi migliori per avvicinarsi alla sua scrittura lei dice scrivere è un modo è uno dei modi di fallire quindi è già consapevole di questo fallimento implicito se noi sappiamo questo la prendiamo la leggiamo e leggiamo tutto quello che scrive come vuole lei come vuole essere questo è un'esperienza straordinaria infatti Clarisse chi legge Clarisse o si allontana subito o la ama in maniera viscerale devo dire che Clarisse è una lingua molto particolare ma non viene dalla sua origine lontana dalla sua ascendenza ebraica neanche dallo yiddish che in qualche modo sta nella sua lingua ma è una lingua strana perché lei la compone in quel modo è un atto creativo è un atto di poetica e di lingua e questo lo scrittore il lettore il traduttore lo deve sapere c'è una un'intenzione e un'intenzione progettuale lei lo dice chiaramente a un certo punto negli anni 50 viene tradotta in Francia e il suo il suo editore francese le ha scritto una lettera facendo le complimenti per la bellezza della sua opera ma dicendo ah i nostri traduttori hanno cambiato qualcosa perché c'erano alcune piccole questioni grammaticali sintattiche da rivedere lei ovviamente si arrabbia moltissimo e risponde peccata non avete capito nulla non sono errori io parlo perfettamente scrivo perfettamente il brasiliano sono scelte stili allora noi dobbiamo quando leggiamo Clarisse dobbiamo capire che lei lei dice scrivere è una maledizione la maledizione ce l'ha le è stata fatta questa maledizione e la porta fino ai gradi estremi con un coraggio incredibile ma con tantissima bellezza la sua è pura bellezza e può apparire anche diciamocelo spero di non sbagliarmi Roberto Francavillo lo dico da semplice lettore anche confuso e distratto può apparire per certi aspetti anche un po' antipatica no Clarisse Lispector lo so l'antipatia devo dire che la suscita specialmente nell'universo maschile perché i suoi protagonisti sono tutti protagonisti femminili sono sempre ragazze giovani donne e c'è un evidente femminismo o proto-feminismo perché insomma negli suoi primi romanzi stiamo parlando degli anni 40 è evidente questa figura del maschio inetto che a volte ce la rende un po' dico all'universo maschile ce la rende un po' antipatica perché è molto provocatoria a me strappa il sorriso devo dire che l'apprezzo tantissimo quando racconta di queste fanciulle di queste giovani donne che ammirano i loro fidanzati i loro uomini poi però nel racconto piano piano questi giovani uomini perdono i loro pezzi e veramente si riducono a quella pochezza che lei intravede in loro ecco questo sicuramente sì poi bisogna dire una cosa Clare di Sidespector ha cambiato c'è un'evoluzione dal punto di vista creativo e dal punto di vista di poetica e di linguistica nella sua carriera quando scrive negli anni 40 e quando scrive i suoi ultimi testi penso per esempio a un testo magnifico come Acqua Viva che ho avuto l'onore di tradurre che è molto intimo e molto vicino alla morte c'è un atteggiamento che apparentemente può sembrare delirante perché è un testo di una intimità sconvolgette e di una donna che sa già di dover morire ricordo che Clare di Sidespector è scomparsa a seguito di una malattia e lei sa di dover morire scrive questo testo per una specie di testimonianza della sua esperienza nominando raramente la morte ma facendocela diciamo così toccare molto da vicino questo lo sanno fare solo i grandi scrittori e cerchiamoli cerchiamoli questi demoni e non pensiamo che siano così lontani da noi i demoni di Clare di Sidespector nel romanzo Città senza demoni scritto da Roberto Francalilla e pubblicato pubblicato da Feltrinelli ma prima di salutarci qual è qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Allora in questi giorni ho tanti libri con me e in questo momento sto leggendo una serie di saggi che si chiamano Libri e lettori tra autori e personaggi parla molto di ricezione parla molto di storia del libro storia dell'editoria e naturalmente storia della tradizione poi io passo in maniera vertiginosa da un romanzo all'altro da una poesia a un saggio sono un lettore disordinato ma sempre molto innamorato della letteratura che è una cosa bellissima e straordinaria e spero che si lega sempre di più che i giovani legga E allora visto che ha citato la poesia ci dica un titolo per incominciare magari a incontrare il verso poetico Allora l'ultimo libro di poesia che ho letto però in questo momento non ricordo il titolo è di Antonio Prete pubblicato nella Bianca di Einaudi un poeta che io ammiro molto e l'altro che avevo letto subito prima che si intitola Paradiso è di Stefano Dalbianco sono due poeti italiani due grandi poeti il convito delle stagioni quello di Antonio Prete esatto è veramente pane per l'anima questa poesia pane per l'anima è un'ottima definizione Antonio Prete intanto grazie davvero ricordo i nostri ascoltatori Pisa Book Festival dal 3 al 6 di ottobre grazie e buon lavoro con le traduzioni Roberto Francavilla grazie grazie un saluto a tutti e tutte grazie mille grazie a tutti